scatenatevi ciao a me sto facendo il video ah stai facendo il video poi magari se lo metti mamma se lo metti su facebook si è il video anche se lo metti sono molto buoni anche se lo metti se lo metti se lo metti rispondi succesi Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Grazie a tutti! Sì, sì. Grande, grande